Siamo in Cammino, un breve spazio informativo sulle attività della nostra Chiesa, quelle che richiamano una particolare attenzione. Questa settimana segnaliamo due iniziative. La prima riguarda la parola pellegrinaggio. I frati minori Cappuccini del Volto Santo di Manopello e i missionari Comboniani della Basia di Santa Maria Rabone in Manopello Scalo invitano alla prima edizione di uno speciale pellegrinaggio dal titolo Camminiamo con il volto di Gesù. Ogni cammino fatto con amore porta all'unità. Domani dunque, sabato 3 giugno alle 14.30, raduno sul sagrato della Basilica del Volto Santo. Alle ore 15 si parte in pellegrinaggio verso Santa Maria Rabona. All'arrivo sarà concelebrata la senta messa, ufficiata da padre Luciano Verdocia, rettore della Basia, e da padre Antonio Gentili, rettore del Santuario del Volto Santo. Al termine è prevista un'agape fraterna nel giardino della Basia. La seconda iniziativa invece riguarda la parola solennità. Dal 2 al 6 giugno a Pescaracolli si celebrano i solenni festeggiamenti in onore della Madonna dei Sette Dolori. Si parte stasera alle ore 18 con l'esposizione del simulacro della Madonna dei Sette Dolori e con una riflessione spirituale di padre Fabrizio Di Fazio. Domani, sabato 3 giugno alle ore 16.30, padre Guglielmo Alimonti benedice gli ammalati. Domenica 4 giugno ore 17.30, messa solenne, celebrata da sua eccellenza Tommaso Valentinetti, arcivescovo della diocesi di Pescara Penne. Si chiude dunque martedì 6 giugno alle ore 18 con la Santa Messa di ringraziamento e la reposizione del simulacro della Madonna dei Sette Dolori. Un saluto e un sorriso da Nando Marinucci in cammino a voi tutti di Misericordia TV.